Buon pomeriggio a tutti amici di Mistero Sport e Broker Voglio fare quest'altro video molto rapido e veloce perché mi hanno detto sempre mi pungico la gente di parlare dei rinnovi dei Buffon e Chiellini e di parlare anche del record che Gianluigi si appresta a scavalcare il mio Paolo Maldini puoi anche scavalcare il record di Paolo Maldini ma resterai sempre un uomo in merda un uomo in niente di persona uno che dopo il gol di Montari disse se anche l'avevo visto non avrei aiutato l'arbitro è uno che ha dato dell'immondezzaio a un arbitro in diretta mondiale per un rigore sacrosanto quello di Benatiaso Vasquez io non lo reputo un uomo degno di di essere celebrato poi come calciatore possiamo possiamo fare i complimenti per come ancora 40 anni para per le protezze e tutto ma come uomo preferisco stendere un velo pietoso idem e con patate per quell'altro suo amichetto che sta in tribuna adesso per un infortunio ovvero Giorgio Chiellini che ha scritto una immondizia di autobiografia che ha detto proprio a bar aperto dove si sparla e si butta fango sui colleghi senza nemmeno averli interpellati passando da Balo passando da Felipe Melo e adesso toccando il mio totem il mio totem Andrei Sevischenko che sia vero o no che gli ha risposto in quella maniera che circola sul web è quello che pensiamo tutti di una immondizia di autobiografia di cui è meglio non commentare perché c'è chi fa la storia vincendo tutto e c'è chi scrive un libro di come gli altri hanno vinto tutto aperto e chiusa parentesi quindi questo se volete proprio un commento di due rinnovi fino al 2021 di due homme e merda insieme al trio con Bonucci che è un altro che di indignità e schifo ne ha dato a profusione quindi se proprio volete un pensiero spassionato su questi due personaggi bianconeri come calciatori nessuno discute ma come uomini stendo una coperta stendo un velo di un circo pietoso quindi questa è la mia opinione in pillone meglio che lasciamo stare meglio che non ne parliamo a uno, vi dico, puoi anche superare il record di Maldini ma indignità e schifo non dibatte nessuno stesso video incompatate per uno che ha scritto un'immondizia di autobiografia che io non leggerò mai neanche se me la regalano gratis non la aprirai manco se me la regalano dove si sputa merda sui colleghi senza nemmeno avvertirli a cui hanno già risposto tutti i suoi colleghi interpellati da Balo a Felipe Melo forse anche Andrino non sappiamo se quelle parole sono vere o sono un fake ma che siano vere o no resta il fatto che io non non celebro Buffon e Chiellini ciao a tutti